Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale di Milano, da ottobre diventerà luogo di manifestazione ed eventi di carattere ludico e sportivo. Il Comune di Milano, d'intesa con la Prefettura, infatti è intenzionato a cambiare volto ad una realtà dove al momento predominano lo spazio, i furti, i borseggi e, in perversa anche, la piccola criminalità. L'operazione ad alto impatto, portata a termine dalle forze dell'ordine nella zona della stazione centrale a Milano, oltre alle altre implicazioni, ha scovato 100 lavoratori completamente in nero, grazie al lavoro effettuato dalla Guardia di Finanze e dall'Ispettorato del Lavoro. Quasi 1.740 le sanzioni amministrative combinate, dai lavoratori senza contributi alla mancata emissione di scontrini fiscali, ad altre situazioni irregolari. Complessivamente quasi 1.300.000 euro di sanzioni. Nei primi sei mesi dell'anno ci sono stati controlli a tappeto che si sono estesi anche a Piazzale Loreto, via Benedetto Marcello, sino a Piazza della Repubblica. Spaccio di droga, furti, raggiri, borseggi, l'area della stazione centrale è tristemente nota per il suo universo di illegalità. I reati rispetto allo scorso anno, ha detto il prefetto Renato Saccone, sono aumentati del 5%, ma lo scorso anno con il Covid le persone in circolazione erano molte meno. Il prefetto ha ribadito massima tensione e chi sbaglia paga. Quando ci sono numerose violazioni si può arrivare al ritiro della licenza e alla chiusura dell'attività. Il dopo Covid ha generato una maggiore aggressività. Il sindaco Beppe Sala ha annunciato che arriveranno finanziamenti per vari progetti. Da ottobre, per tutto l'anno, Piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione, ospiterà continui eventi sportivi o di intrattenimento. Bisogna favorire l'aggregazione, la condivisione, fare in modo che chi vuole delinquere stia lontano. Verranno collocate 30 nuove telecamere, più unità mobili per affrontare situazioni di bivacco, di molesti e consumo di stupefacenti. Unità fatte di volontari del terzo settore coadiuvati da psichiatri. Grazie.